Ragazzi, buona giornata a tutti, anzi buona serata a tutti, buona serata a tutti ragazzi veramente lasciate un piacere al video per supportare il canale gratuitamente, per supportare noi creators e soprattutto della Avengers Crew che dobbiamo sopportare di nostra conseguenza questo individuo e i tanti individui che lo seguono tra giornalisti e tifosi, opinionisti, tifosi di Allegri e non della Juventus. Allora io, per me il video potrebbe finire sul, io sto leggendo quello che ha detto lui, quello che ha detto appunto questo soggetto qua, questo personaggio qua e non ho visto la conferenza perché non le vedo mai, perché sinceramente veramente mi sale un risentimento nei confronti di questo qua ogni volta che lo sento parlare che veramente è meglio che evito di sentirlo. Solo sulla domanda della difesa a 4 e solo sulla risposta potremmo chiudere il video. Noi difendiamo sempre a 4, non dobbiamo cambiare assolutamente niente. Solo per questo, solo per questo possiamo chiudere. Perché quando un attore mi dice che noi difendiamo sempre a 4, ma sapete perché lui dice questo? Perché quando le squadre avversarie attaccano a sinistra c'è il nostro esterno destro che va a pressare un minimo e quello sinistro rimane giù e sembra una linea 4. Ma se ci attaccano centralmente voi guardate che l'esterno destro e l'esterno sinistro sono a linea 5 insomma. Quindi noi difendiamo 5 caro Massimiliano Allegri. Io ho sempre detto che se sei arrivato a quel punto a questi livelli qua un motivo ci sarà, ma quando tu fai queste uscite qua purtroppo sei indifendibile anche nei confronti di chi dice che effettivamente tu non capisci un cazzo di calcio. Ok, che sei arrivato là perché sei miracolato e tutte queste cose qua perché a un certo punto uno con tutto l'odio sportivo che può provare per te, però c'è sempre stata quella cosa, no? Non è un attore, ma se lui è un attore in Serie A un motivo ci sarà, sarà arrivato. Però se tu fai queste uscite qua capisci bene che poi anche quelli che ti discutono tatticamente, io ti discuto tatticamente ma ti discutono proprio sul fatto che non ne capisca tanto di calcio, beh questa siccome è nella prova ed è veramente quasi anzi impossibile difenderti da questa stronzata puttanata che hai detto. Che hai detto? Poi c'è stato qualcosa anche a fine intervista che mi hanno detto che è sclerato insomma, ah vabbè poi lui ha detto rabbio sottotono, è il motore della squadra, voi pensate come siamo messi. Ipotesi tridente, sicuramente avremo la possibilità di lavorare per cercare di arrivare con giocatori più offensivi come Ildiz, Chiese e Vlaovic, quando giochiamo con Cambiaso lui è uno offensivo, sì peccato che Cambiaso è partito da terzino e da esterno in centrocampo e tu lo vedi là, vabbè, lui è uno, più che parlare di moduli bisogna essere bravi a sfruttare meglio, ecco, frase del cazzo che dimostra che lui non insegna niente ai propri giocatori e alle proprie squadre. Più che parlare di moduli bisogna essere bravi a sfruttare meglio le occasioni e tornare ad essere solidi in infesa. Questo è Massimiliano Allegri, punto, questo è lui, lui non dà un cazzo, lui non dà niente, lui è ormai insopportabile, ne ho le palle piene di questo individuo qua, che non ce la faccio più a sopportare lui e tutti i coglioni che gli vanno presso, che mi scrivo anche sull'altra piattaforma per difendere lui e l'amichetto Agnelli, non ce la faccio più, non ce la faccio più, ma noi difendiamo la Juventus, attaccando Allegri, attaccando quello che poi ha fatto Agnelli, attaccando quelli che difendono questi esseri, noi, noi, questi soggetti qua, noi difendiamo la Juventus, noi amiamo veramente la Juventus, perché quando andrà via Allegri, chiunque arriverà al posto suo, verrà sostenuto, criticato, certo quando sbaglierà, ma verrà sostenuto, tifato, riporterà indipendentemente da chi sarà, riporterà entusiasmo. Voi invece sarete talmente ossessionati di Allegri che sarete là ad aspettare il primo passo falso, il primo passo falso del nuovo allenatore per dire ecco Allegri non avrebbe, mi ricordo l'anno di Pirlo, sapete quante volte ho sentito la favolità del cazzo, Allegri questa partita non l'avrebbe persa, ad esempio col Benevento, ma vi ricordate no che Ronaldo rimase a casa quella volta? Sapete quanto è puttanato? Ma quelle frasi là, non vi ritornano in mente brutti stronzi di quelli che hanno detto queste stronzate qua l'anno dopo, l'anno dopo ancora e anche quest'anno? No, perché l'anno dopo, l'anno dopo ancora e anche quest'anno ci sono mille giustificazioni del perché, delle sentenze, delle motivazioni. E Allegri che dice dopo il Verona l'importante era non perderla a un certo punto. E mi ricordo all'inizio, a ottobre, novembre, quando si diceva, eh ma l'anno scorso l'avremmo persa, e con l'Udinese in casa? Com'è che hai perso anche quella partita? Dato che non era più l'anno scorso. Com'è che hai solo 4 punti in più rispetto all'anno scorso, che hai avuto le sentenze dopo il tracollo che avevi già avuto comunque? Formazione, spero di indovinarla, se dovesse sbagliarla dall'inizio in panchina avrò dei calciatori che mi permetteranno di raggiustarla. Il Frosinone è una squadra pericolosa, non si ferma nemmeno in posizione di svantaggio. Critiche, alla Juventus è bellissimo, soprattutto se a uno gli piace la pressione e vivere queste situazioni. Qua se vinci per 3-2 non va bene perché hai preso due gol, se vinci per 1-0 non va bene perché hai segnato poco, però purtroppo con te c'è sempre stata la seconda lamentela. Bisogna allenarsi alle critiche estere alla Juve. Poi, la Champions League è l'obiettivo minimo? Questa è la parte bella. No, iniziamo... E voi guardate i toni, dovete guardarvi la conferenza perché l'ho sentita, l'ultima parte l'ho sentita. No, iniziamo a utilizzare bene l'italiano. La società fin dall'inizio mi ha chiesto di tornare in Champions. Il mio futuro sarà legato ai risultati? Ripeto, la Juventus è sempre stata e lo è anche ora una società pronta per programmare il futuro. Scanavino, giunto le manna, faranno il meglio per la Juve. Queste sono frasi che secondo me, se uno vuole interpretarle, non ha la certezza, non voglio essere estremo nel dire che sa già di essere, che sarà mandato via, però non ha la certezza quantomeno di avere più il coltello da parte, il manico. Ok, possiamo dire questo. In questo momento, qui tutti dobbiamo pensare e lavorare senza farsi distrarre da quello che sarà il prossimo anno. Alcaraz è un buon giocatore, non ha tanta esperienza, ma ha molta tecnica e buon tiro. Il suo ruolo è quello di mezzare l'offensiva, che poi ha detto tra l'altro che potrebbe giocare anche come sottopunta, e io vi ho detto appena arrivato lui, che secondo me, prima o poi Alcaraz con Allegri lo troveremo a giocare al posto di Chiesa, al posto di Lidice, come sottopunta dietro a Vlaovic. Io, ragazzi, queste parole qua, perché poi dall'altra parte ci sono opinionisti, giornalisti, che dicono che siamo delle scimmie urlatrici, che ragioniamo di panze, no, 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 il problema, sapete qual è? È che noi, e noi l'abbiamo sopportato tanto, e abbiamo sopportato voi tanto, ok? Abbiamo usato termini consoni prima, abbiamo fatto dei ragionamenti logici, anche a volte in tutela sua per difenderlo, dagli attacchi preventivi, quando è arrivato la prima volta, per dargli il beneficio e il dubbio quando è tornato, che fosse cambiato un qualcosa, quindi da questa parte, se voi guardate i video iniziali, non ero d'accordo col suo ritorno, ma ho dato il beneficio e il dubbio anche al suo ritorno, nonostante volessi spaccare tutto quando è tornato, e mi sono trattenuto, e quindi quando uno arriva a questo punto, è perché accumula, 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 questo continua a sbagliare, non impara mai, vuole fare di testa sua, per cura addirittura anche i suoi colleghi, per cura chi non la pensa come lui, perché di fatto per cura, quando si dice non rispetti l'opinione altrui, perché secondo voi Allegri la rispetta l'opinione altrui? Io l'ho visto, da otto anni lo vedo, e con Adani, e con Sacchi, e con quello, e con l'altro, con quell'altro, ha sempre da ridire qualcosa, appena qualcuno gli alza un minimo di critica, lui alza la voce, avete visto l'ultima domanda? Da quanto è che non arrivava a una domanda un po' più, diciamo, spinosa? La della valle l'anno scorso, e avete visto come l'ha assalita sotto quell'aspetto? Quindi, purtroppo, Allegri non è abituato, non è abituato alle pressioni probabilmente, perché è facile avercele quando hai nettamente la squadra più forte, che nel bene o nel male, anche dopo il sassuolo, quella sconfitta lì, sono stati i senatori a prendere in mano la situazione, e a farti, e a salvarti il culo. Io, ragazzi, sono arrivato a un certo punto che, vabbè, lo continuerò a criticare, a volte continuerò a sclerare, perché non ce la faccio più, però sono arrivato a un certo punto che, dici, ragazzi, questo è, noi abbiamo fatto il nostro, da questa parte, noi l'abbiamo criticato, quel che era giusto criticarlo, l'abbiamo attaccato, l'abbiamo distrutto tatticamente molte volte, abbiamo detto il perché, abbiamo riportato anche statistiche che hanno riportato gli altri, contestualizzate, a quello che noi diciamo sempre con le nostre analisi, post partita, parlo di noi della Juvengers Q, quindi, se non si vede, se non si aprono gli occhi, noi cosa possiamo fare? Certo, noi continueremo a incazzarci, continueremo a incazzarci per il bene, per l'amore che abbiamo nei confronti della Juventus, e del nostro essere tifosi, che vogliamo essere, tornare ad essere quel tipo di tifosi là, che si incazzavano dopo una sconfitta, e invece adesso proviamo apatia, ci incazziamo solo perché c'è ancora questo allenatore qua, che vinca, che pareggio, che perda, vogliamo tornare a godere di una vittoria, vogliamo tornare a esultare quando la palla nostra va, si insacca alle spalle del portiere avversario, vogliamo tornare ad avere un po', non dico ansia, ma un po' di agitazione prima della partita di una partita della Juventus, vogliamo tornare a fare questo, con Allegri sappiamo che non potrà essere così, con gli Allegriani a seguito, non potrà essere così, allora, vedete, noi abbiamo fatto, e continueremo a fare queste battaglie qua, ma poi deve essere la società, deve essere la società, cioè io qua faccio un passo indietro, perché deve essere la società a capire, non dico il malumore ai tifosi, perché la società non ha mai ascoltato i tifosi, va bene, ma capire che il calcio è un altro ormai, il calcio è evoluto, il calcio non è quello che fa Allegri, non è quello che fa Mourinho, a tratti non è neanche quello che fa Simeone, anche se Simeone quest'anno, al di là del sistema in gioco obsoleto, sono d'accordo, però sta facendo un qualcosa di diverso rispetto al solito, lo stesso Bayer Leverkusen, perché a me non piace 3-5-2, io guardo ogni tanto Bayer Leverkusen, ma è una squadra che si gioca con un gioco posizionale, ha dei suoi meccanismi, ma è una squadra che comunque, perché usa questo sistema in gioco, necessita maledettamente dell'intensità, maledettamente, appena cale l'intensità del Bayer Leverkusen, abbassa il baricentro anche il Bayer Leverkusen, perché è un modulo che non occupa al meglio il campo, che non distribuisce bene le energie fisiche e mentali, secondo me, dei giocatori, è una mia opinione, è una mia sensazione, è un mio modo di vedere il calcio, giusto o sbagliato, per voi è sbagliato, va benissimo, ma io la credo così, e credo che se in 60 anni di Champions League, solo due squadre, forse hanno vinto la Champions con la difesa 3, difendendo 5, forse un motivo ci sarà, ma ripeto, quando un allenatore, una delle prime domande, se non addirittura la prima, risponde che noi giochiamo già a 4, difendiamo già a 4, basta, è finito, basta, mettiamo, mettiamo veramente via tutto, perché se volete, io torno a fare le analisi tattiche, e vi dimostro, e dimostro anche allo stesso Allegri, quanto noi difendiamo a 5, a 5 e mezzo, perché molte volte ce lo cattelli davanti a difesa, perché, vi faccio un esempio, se gioca UEA a destra, o Cambiaso a destra, i Costici a sinistra, faccio un esempio, Cambiaso si abbassa a destra, Costici si abbassa a sinistra, con i due difensori centrale-destro, centrale-sinistro, in gergo chiamati Braccetti, di fianco al difensore centrale, con una linea 5, con i tre centrompisti che si abbassano, diventa un 5-3-2, carissimo Massimiliano Allegri, tu puoi prendere per il culo, chi viene là in conferenza stampa, ma non chi ne sa di calcio, perché io non credo di essere il più competente, però credo di saperne un minimo di calcio, di guardare, di saper analizzare un minimo le partite, ma è come tantissimi altri, quindi chi ne sa, non parlo di me, chi ne sa di calcio, e a chi ne sa di calcio, non puoi dire questa stronzata qui, perché sai, che puoi dirlo, solo a quelli che ti dicono, sì, 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 Max, sì, Max, grande Max, grande Max, ex giornalisti, opinionisti, ex calciatori, che sono lì, io non so, che ti coccolano, ti tutelano, mai visto un attore del genere, difeso in questa maniera qua, io non so cosa c'è sotto, perché uno poi va a pensare male, perché ragazzi, chi difende questo qua, a livello dialettico, a livello anche di gestione, probabilmente, dato che so, che ci sono molti giocatori, che non lo sopportavano l'anno scorso, e non lo sopportano quest'anno, a livello tattico, a livello tecnico, chi lo difende, lo tutela ancora, non può che essere in malafede ragazzi, non può che essere in malafede, c'è poco da fare, uno va a pensare questo, uno giustamente va a pensare questo, o giustamente o meno, però uno, uno arriva a questo ragionamento qua, quindi io, ripeto, mi incazzerò, perché fino a che ci sarà questo qua, mi incazzerò, perché lo so, non posso dire, non mi incazzerò più, mi incazzerò, però a un certo punto, ti viene a fare un posto indietro, e dici, va bene, però adesso, se la società non prende posizione, se la società, non interviene, anche dopo queste conferenze, che da tre anni, che percula, tifosi, società stessa, perché l'anno scorso, ha tirato delle frecciattine, alla società, e la società è stata zitta, con John Elkan in primis, che l'ha riconfermato, quindi colpa anche sua, e non ditemi il discorso, i soldi, perché poi vanno a spendere, i 40 milioni, all'anno per Hamilton, quindi, non è che non hanno soldi, non li vogliono spendere, per la Juventus, allora, il discorso è sempre quello, prendete un altro socio, di maggioranza, vendete almeno una parte, se non volete venderla tutta, date, questa Juventus, questa squadra qui, a chi vuole, non per forza, a chi ne sa di calcio, a chi è tifoso della Juventus, ma a chi vuole, far sì che, vuole essere ricordato, a livello globale, anche con la Juventus, e quindi per vince, a livello anche internazionale, questo andrebbe fatto, basta, basta, e io ovviamente parlo sempre di calcio, a livello calcistico, poi, a livello personale, umano, non andrei mai a toccare le persone, ci mancherebbe, però a livello calcistico è così, ragazzi, a livello calcistico è così, quindi, io, io i giornali, non lo so, so che anche nella tifosaria, più calda della Juventus, partono dei cori pro allegri, ma so per certo, che non è, che sono tutti pro allegri, anzi, quindi anche là, dici, boh, perché li faranno, non lo so, beh, questa è la situazione, quindi, o la società prende posizione, è giunto lì stesso, e adesso, io vorrei la prendesse subito, se non prende subito, la prendesse quantomeno a fine anno, o giunto lì, sarà considerato da me stesso, da sottoscritto, come da tutti, da UNG's Q, anche lui, uno dei responsabili, di tutta la disfatta, a livello entusiasmico, se si può dire, del prossimo anno, basta, nulla più, nulla meno, perché Andrea Agnelli, quando si dice, la proprietà è la prima responsabile, sì, John Aikon è il primo responsabile, ad aver confermato Allegri, assolutamente sì, Agnelli è il primo responsabile, ad aver richiamato Allegri, perché quando vi ho detto, e quando dico anche sull'altra piattaforma, Agnelli è il peggior presidente, Allegri è il peggior allenatore, John Aikon è il peggior proprietario della nostra storia, voi guardate i trofei, a me dei trofei contano, cioè contano per me i trofei, ma fino a un certo punto, il trofeo più importante di un tifoso, deve essere l'entusiasmo e la passione, e uno può vincere anche 4 Champions League, faccio un esempio, ma se ti levano quelle due cose là, sono i peggiori da ricordare, i peggiori, perché hanno elevato l'anima del tifoso, e non c'è trofeo che tenga, che sostituisca queste due cose qua, con un, appunto, queste due cose qua, appunto, quindi, detto questo, mi sono sfogato anche oggi, vabbè, detto questo, ripeto, io faccio anche un passo indietro, perché se questa è la situazione qua, faccio un passo indietro, nel senso che, adesso sta ad altri, sta ad altri, prendere delle scelte, sta ad altri, perché a un certo punto mi rassegno, cioè, mi incazzerò, ma in questo momento qua mi rassegno, ti incazzi per cosa? Lo senti? Lo senti parlare? lo senti, lo vedi in campo cosa fa? Vedi cosa fa? E non si lamenta mai degli arbitri, mi dicono, sì, però poi va giù, negli spogliatoi, ogni volta a fare casino con gli arbitri, e non ditemi, eh, ma è giusto così, no, lo sapete perché lo fa? non per la Juventus, per non sporcarsi l'immagine pubblicamente, quindi a freddo sta un po' più calmo, però poi, e quando tu sei così, e lo dice uno, io, che ha un carattere fumantino, fumantino, su questo aspetto qua, quando tu fai una roba del genere, è perché sei d'indole così, sei un fumantino, quindi perché nasconderlo davanti alle telecamere, se sei così, sotto quell'aspetto è più coerente, con Antonio Conte, vabbè, ragazzi, ditemi la vostra, i giornali, vabbè, dei giornali ormai non ho più, non ho più fiducia, addirittura Ravanelli è venuto fuori, Zazzaroni, vabbè, non ne parliamo, Zazzaroni, lasciamo stare, ragazzi, Zazzaroni, Sabattini, questa gente qua, lasciamo stare, non ha veramente neanche più senso, neanche più senso, discutere con questi qua, e citarli, perché purtroppo, questi, e non sono più credibili, e c'è poco a fare, non sono credibili quando parlano di Allegri, punto, neanche quando parlano di altre cose, ma quando parlano di Allegri, per come la vedo io, non sono credibili, c'è poco a fare, punto, ricordo, e ripeto, se delle emittenti come Mediaset, se dei giornali come Corriere dello Sport, tipicamente anti-Juventini, ok, difendono, l'unico tesserato che difendono da Juventus, è Massimiliano Allegri, ma una stracazza di domanda, ma ve la volete fare? perché, perché voi fate il gioco degli anti-Juventini, quindi siete uguali agli anti-Juventini, quindi siete anti-Juventini, ripeto, chi difende, tutela, giustifica, ancora Massimiliano Allegri, è anti-Juventino, vuole il bene di Massimiliano Allegri, e vuole il male della Juventus, e odia la Juventus, sportivamente parlando, detto questo, ripeto, faccio un po' se dentro, e adesso, deve essere la società, a prendere provvedimenti, nei mesi prossimi, perché sennò, noi ci possiamo incazzare quanto vogliamo, buona serata a tutti.